Mi stavo lanciando in un grand jeté en tournant quando si sono avventati su di me e sono caduta a terra. Avevo appena terminato lo chassé ed ero pronta a saltare. Loro dicevano che non dovevo avere paura, che ora era tutto finito, ma più che dirlo a me sembrava lo dicessero a loro stessi. Erano due uomini e una donna. Due di loro mi hanno ammanettato i polsi mentre eravamo ancora a terra. Io non capivo bene cosa stesse succedendo, so solo che prima che arrivassero stavo così bene. Ero sul punto di fare il grande salto e da quando avevo imparato a danzare il grand jeté mi era sempre riuscito senza intoppi. Ho chiesto ai due uomini che stringevano la presa sulle manette perché avessero interrotto la mia danza e loro si sono solo guardati a vicenda. È stata la donna a dirmi che se avessi completato il salto sarei morta spiaccicata al suolo. Sei brava, hai un passo angelico, ha detto, però ti vorremmo tenere tra noi esseri umani. Ma se non mi allenassi qui, come potrei avere un passo così angelico? Ho risposto io. Credevano davvero che sarei caduta dal tetto. I due uomini hanno fatto un cenno alla donna tipo basta stronzate, sbrigatevi, andiamo giù. Ma io ho aggiunto scusi, ma se non faccio i conti col mio spirito non posso danzare, capisce? Mi rivolgevo solo a lei ormai perché mi sembrava che gli altri due avessero la sensibilità del cemento secco. La donna ha risposto, se fossi caduta dal 52esimo piano però con il tuo spirito avremmo fatto i conti noi. Quel grattacielo era ancora in costruzione, ma avevano appena ultimato il tetto ed era così invitante. Mi sembrava di poter danzare davanti a Dio o almeno ai suoi rappresentanti nei cieli della città. Al commissariato mi hanno chiesto come avessi fatto a deludere i sistemi di allarme dei ponteggi. Io ho detto la verità, che ero salita in mongolfiera, ma nessuno mi credeva. Ho spiegato che avevo una mongolfiera tutta mia, a misura del mio corpo. Era stata un regalo, ma uno di loro si è spazientito e mi ha preso per un braccio trascinandomi nel suo ufficio. Ha detto «Signorina, da questo momento lei si trova di nuovo sotto la custodia del Dipartimento di Igiene Mentale. Presto arriveranno delle persone a prenderla. E lei informo anche che la signorina Ava, invece, non sarà più in camera con lei in ospedale. È stata esonerata dal ricovero forzato per averci dato questa soffiata. E poi se n'è andato. L'ospedale, Ava, il ritmo delle nostre esistenze. Tutto era rimasto sincronizzato come un meccanismo infallibile nell'ultimo anno. Almeno fino a quel momento. Mi hanno rinchiuso nella stanza. Ava non c'era, ora me ne rendevo conto. Tipo a quell'ora, prima che tramontasse il sole, lei prendeva la sveglia, si sedeva sul comodino e picchiettava con un dito sulle lancette. Era il suo modo di dirmi «Andiamo a vedere il tramonto, muoviti». Ava e Dio andavamo d'accordo perché il nostro amore era un'intersezione geometrica. Lei pensava sempre al tempo, a tutto ciò che è lineare, che va da un punto all'altro sulla linea dell'orizzonte. Io, invece, pensavo sempre al volo, alla consistenza dei sogni, al modo in cui svaporano verso l'alto. Nel diagramma delle nostre vite, io ero verticale e lei orizzontale. Detto così sembra semplice, no? «Non lo fare, ti prego», mi ha detto Ava. «Non succederà niente, lo sai, lo faccio da quando quattro anni», ho risposto. «Ma non hai mai danzato lì, sei fuori?» «È per questo che devo farlo. Solo così posso prepararmi allo spettacolo. Devi proprio arrivare a questi estremi? Senti, perdonami, so quello che è successo a tuo padre, ma non sto salendo su una montagna a 8.000 metri senza ossigeno, ok? È solo un grattacielo». Ava si è voltata e mi ha dato le spalle. Il suo corpo era bellissimo irrigato di vita, una corda che si era legata sul bacino per molte ore durante le ricerche del cadavere di suo padre. Le aveva assegnato la pelle in modo permanente all'altezza dell'ombelico e quando si girava verso il muro mentre eravamo a letto insieme potevo sentire quella cicatrice se la avvolgevo con un braccio attorno alla vita per stringerla a me. Quella sera sono andata da sola nel giardino a guardare il tramonto. Quando sono tornata nella stanza, Ava stava usando ago e filo per cucire qualcosa. Pensavo fosse uno dei suoi soliti ricami, fazzoletti, centrotavola, tovaglioli. Mi piaceva osservarla. Quando lei era così concentrata io potevo allentare la tensione e mi sono rilassata talmente tanto che ho preso sonno subito. Al risveglio la sorpresa. Ava aveva ricamato una mongolfiera a misura per me. Mai visto tanto tessuto cucito in modo magistrale in così poco tempo. Sopra c'era un biglietto con scritto «Non avrei dovuto, ma sarà questa cosa incontrollabile l'amore». Come avrei potuto non usarla? Ho indossato il body, le mezze punte e sono scappata all'alba sul grattacielo con la mongolfiera. Volevo danzare. Da quel momento il bigliettino di Ava sarebbe sempre stato nella mia borsa. Bastardi! Mi avevano detto che Ava era stata esonerata dal ricovero, invece l'avevano nascosta. Nel piano seminterrato, in isolamento. All'inizio pensavo che le avessero davvero concesso di tornare a casa. Anche se mi era sempre sembrato strano che Ava avesse spifferato alla polizia dove mi trovassi. Poteva averlo detto solo perché era in ansia per me. Alla morte di suo padre era stato uno shock così grande che per anni non era riuscita a dire nemmeno una parola. E ora che riusciva a parlare di nuovo, credo volesse solo evitare una tragedia. Ma a me, danzare sul tetto di un grattacielo, non sembrava pericoloso. Quando i medici si sono accorti che la conoscenza del fatto che Ava si trovava nel seminterrato, non si sono nemmeno chiesti come avessi fatto a saperlo. L'hanno subito trasferita in un'altra struttura psichiatrica. E io ho fatto l'unica cosa che può fare una linea verticale se vuole intersecare una linea orizzontale lontanissima. Immaginatemi prima del volo. Ero bella, slanciata e con la borsetta in mano. Lo spettacolo di danza in ospedale era previsto per quella sera. Ma io ho avuto questa visione di Ava seduta su quel grattacielo, così come stava seduta sul comodino, con la sveglia in mano a picchiettare sulle lancette. L'ora era quella giusta. Quando sono arrivata sul tetto, il crepuscolo stava propagando riverberi di verde acqua nell'aria. Ho controllato che il biglietto di Ava fosse con me, ben chiuso nella borsa. Io non avrei saputo trovare parole migliori di quelle che aveva scritto lei per congedarmi da questo mondo. Mi sono messa nella posizione del piede a lato. Nella danza classica è la posizione più bella e la più fragile. Non so chi tra me e Ava fosse più bella e chi più fragile. So solo che prima di lanciarmi dal tetto ho sentito che quella era la cosa giusta da fare. Sapevo che la forza di gravità mi avrebbe aiutato a disegnare una linea verticale perfetta e lunghissima. Era l'unico modo per poter incrociare la linea orizzontale di Ava. Anche quella era perfetta, ma lontanissima. Ho preso la rincorsa e con un gran getté sono rientrata nel diagramma delle nostre vite.